Musica Bella ragazzi, oggi per voi il vostro 4Sphere Lover che vi presenta un nuovo video sul mio canale Oggi vi faccio vedere un video di Faceoff su Modern Warfare 3 Che è la nuova modalità che hanno pubblicato per tutti quelli membri Elite Poi naturalmente ci sono anche due mappe che sono gratis E sì, oggi è un live con mia faccina E spero che vi piace, faccio un uno contro uno Spero di trovare gente perché... Ah, sì, ok, è diventato una cosa veloce Io uso questa classe, credo Me la sono fatta prima E sì Adesso io naturalmente non sono bravissimo nel fare il live Ma cerco di farlo O di riuscirci E... Sì, andiamo giù, 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 giù Qua Poi vi faccio vedere... All Ground O come si chiama Ma non ho giocato da... Un mese Circa Sulla PlayStation 3 Quindi può essere che... Non sarò così... Bravo Sì, ma dov'è? Uno Ai, ai, ai Come cazzo ha fatto? Lul Poi non so se voi avete visto il video sul canale di Gabbo L'ultimo L'ultimo Dove dico Che voglio aiutare tutti i youtuber piccoli Quindi Se voi avete un video Potete mandarmelo Tramite Un link Quindi voglio il video già fatto Quindi non registro per voi Perché quello poi sarebbe troppo Per me E che cazzo fa questo? E... Sì Come ho visto questo avversario Non è Così forte In più È uno che Mi piace camperare Sentito male Sì, ma dov'è? Oh, ma così è noioso Poi se voi avete... Se voi avete... Se voi avete giocato a face off Ditemi Cosa Ne pensate Putera che culo Vi è piaciuto? Vi è piaciuto? Oh, mi piace Ah, ho visto Che culo Oh, ma quanto sono scemo? Ho il WAB Non l'ho messo Noi 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 Ah, sì Quindi No, che cazzo di spawn è? Ma dai Ragazzi questo è MV3 Madonna Quanto mi dà fastidio LOL Si adesso spawn è di nuovo Vicino a me Ha, si è preso Il lancio delle granate Quindi questo è veramente un pro Grazie per gli Approvvigionamenti Lola Ti ho visto Guardiamo AC-130 No Non ci credo Ah, sì Si ma io qua Te la camperi Sica Mi dispiace ragazzi che Questo non diventa Così bello Ma Io qui Non pensavo di trovare una cinta così Scarsa Madonna Oh, mi sembra che non c'è neanche una mira Non per offenderlo ma Non per l'altro Non per l'altro Non per l'altro E' un po' Bitch Troppo facile Era troppo facile Peccato Eh si Forse faccio un altro Ma con questo adesso io faccio una pausa Perché Mv3 mi fa un po' Incazzoni Si Se vi è piaciuto il video Che credo Non vi è piaciuto Ma se vi è piaciuto il video Datemi un pollice in su Se non vi è piaciuto il video Un pollice in giù E Si Se volete Se non volete perdere Un altro video mio Mandatemi No Non mandatemi Iscrivetevi al mio canale Link Della mia pagina facebook Ho nella descrizione Poi se Ovvio col video che ho fatto Sul canale di Gabbo Conta ancora Quindi se Vi posso aiutare Come video Di pubblicità Si Pubblicizzare Si Pubblicare il vostro Canale Mandatemi Il link Dove trovo Tutto Il video E Si Metto anche In descrizione Il video di Gabbo Quindi Guardatevelo E si Con questo Ho detto tutto Bella ragazzi Ciao Ciao